Paolo Reghi, Presidente nazionale FIAIP, siamo alla consulta interassociativa degli agenti immobiliari qui a Milano. Ci può descrivere qual è l'importanza di questo incontro tra le tre principali associazioni qui oggi a Milano? In un momento di crisi e di contrazione del mercato il fatto che le tre associazioni che rappresentano la quasi totalità della categoria degli agenti immobiliari si riuniscono per progettare il futuro e per trovare soluzioni da proporre alla classe politica è di primaria importanza. La consulta svolge e svolgerà sempre più un ruolo primario in quella che è la rappresentanza dei bisogni della nostra categoria. Voi avete collaborato di recente con il Ministero dello Sviluppo Economico per questo passaggio di ruolo dell'agente immobiliare. Ci può descrivere qual è l'importanza di questo passaggio e quali sono le fasi fondamentali per riuscire a completarlo? Il recepimento della direttiva Bolkestein ha di fatto eliminato il ruolo degli agenti immobiliari. In un primo momento sembrava che il mondo potesse crollare per noi agenti immobiliari, invece grazie alla concertazione, devo dire alla professionalità dei tecnici del Ministero e anche, devo dire alla nostra professionalità, siamo riusciti a trovare un coniugio tra quelle che erano le esigenze della direttiva Bolkestein, quindi una simplificazione normativa è quella di una categoria che tutela il risparmio delle famiglie e che deve essere sempre più professionale e preparata. All'inizio del recepimento della direttiva sulla scorta ancora del decreto Bersani si voleva liberalizzare completamente la nostra professione togliendo i requisiti, invece devo dire che grazie all'attività, lo ripeto, del Ministero dello Sviluppo Economico siamo riusciti a mantenere quelle tutele per il consumatore che oggi sono state illustrate e a mantenere le caratteristiche professionali tipiche dell'agente immobiliare cercando anche di innalzarle per evitare e per sconfiggere l'abusivismo. Si parla di direttiva Bolkestein, quindi è un passaggio di epoca a livello europeo, a livello internazionale, quali sono i vantaggi che un tale passaggio può portare all'agente immobiliare che talvolta forse non sono nemmeno recepiti? Sicuramente la possibilità e la facilitazione con cui la direttiva Bolkestein in tutta Europa vuole dare la possibilità a tutti i lavoratori di stabilirsi in altri paesi, per noi agenti immobiliari italiani apre nuove possibilità che prima ci erano sconosciute, noi deteniamo ad esempio il più bel patrimonio immobiliare che è situato nel più bel paese del mondo e quindi il fatto di essere noi ad andare all'estero con le nostre agenzie a promuovere il marchio del nostro paese, il marchio Italia e gli immobili italiani ad esempio è una nuova frontiera che ci deve far capire che l'agenzia immobiliare così come oggi è strutturata può continuare ma deve assolutamente trovare nuovi canali di sbocco e sicuramente la Bolkestein è un'opportunità e non certo una difficoltà.